Guardi Mirta, è un argomento che io non ho mai toccato, ogni volta rispondo solo se me lo chiedono, non ho mai fatto polemica, non la voglio fare neanche questa sera, credo oggettivamente che non c'è conoscenza della materia, non si sa di che cosa si sta parlando, sul tema che erano a ricarico dei cittadini, è forse vero ma non certo dei romani perché le garazzie erano date solo dal governo, i cittadini di Roma non tiravano fuori un euro, documentato e documentabile, ma soprattutto sarebbe arrivato circa un miliardo e 750 milioni di dollari che avremmo preso a fondo perduto e soprattutto che avremmo generato 170 mila posti di lavoro, che è esattamente il rapporto tra l'invernale e le estive che è considerato la stima della Bocconi, di Ca' Foscari, della Sapienza, che hanno appattato, ma non facciamo polemica, non serve, è stato un errore spaventoso, basta adesso che nella vita uno riconosce, non entrano nella dialettica aspetti politici, a noi non ci interessa questo.